«Voglio definirlo il simbolo della nostra comunità alla lotta contro il Covid», lo scrive il sindaco di Lustra a Cilento, Luigi Guerra, sulla sua pagina Facebook, postando una foto con Angelo Antonio Bertolini, cittadino di Lustra e maestro di musica di una delle bande più antiche del Cilento, guarito dal coronavirus all'età di 86 anni. Questa sera mi sono recato a casa del maestro Bertolini Angelo Antonio, il quale è stato dimesso da pochi giorni dall'ospedale dopo aver vinto la battaglia contro questo maledetto virus», spiega il sindaco. «In questa battaglia non è stato mai lasciato da solo, specialmente da parte della sua compagna, una grande donna, la signora Carmela e da tutta la sua famiglia. In questi giorni, insieme a tutta l'amministrazione comunale, ci faremo promotori per conferire un encomio a tutte quelle persone anziane che, con la loro forza e la loro gioia di vivere, hanno superato questo brutto momento». Il maestro Bertolini ha vinto la sua battaglia contro il virus nonostante il morbo di Parkinson. 35 giorni li ha trascorsi con la positività al virus. 11 di questi sono stati di degenza in ospedale a San Luca di Vallo della Lucania perché assistito con l'ossigenoterapia. Ma lui è stato più forte e il virus lo ha sconfitto ed è tornato a casa.